Davvero complimenti Faccio i complimenti ad Arisa perché il tema è che lei è stata molto forte in tutto il percorso ma non era questo di cui volevo parlare era assolutamente, ti ringrazio cara perché tu ci capisci, contrariamente a questi due soggetti che secondo me, no no posso dire una cosa io ho trovato che sia, io ho fatto tanti esami nella vita al conservatorio, all'università e due giudici come voi sarebbero stati immediatamente licenziati perché voi non avete assolutamente la capacità di giudicare non vi intendete di questa materia spero che l'anno prossimo non siate più a rubare gli stipendi a gente che dovrebbe invece stare non ci capite nulla siete anti-artistici è inutile che fai così Marco dai, è il momento finale questo è stato un bellissimo percorso Marco tesoro io adoro dire queste cose, non vedevo l'ora di ammutolire Luca Rennes oh fermi, fermi tutta Italia mi ha fermi, fermi allora Marco il terzo posto in questa gara è bellissimo perché, no perché non ce lo saremmo mai aspettati